Ciao, benvenuti all'ultima puntata della Chips Challenge. Eh già, siamo già all'ultima puntata. Allora, diamo la soluzione al gioco di ieri. Qual era l'intruso fra tutte queste carte? Era l'otto di cuori, perché è l'unico con cinque semi visibili. Uno, due, tre, quattro, cinque. Mentre se ci fate caso, tutte le altre avevano quattro semi visibili. Ok, quindi uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. Tutti quanti avevano quattro semi visibili, tranne l'otto di cuori che ne aveva cinque. Quindi questa era la risposta esatta. Complimenti ai vincitori. Bene, passiamo all'ultimo enigma di oggi. Sposto la telecamera più avanti. Ok, aspetta che facciamo così. Allora, le carte che vedete fuori dal tappetino sono lì semplicemente perché non ci stavano. Non c'entra niente con... cioè non è una chiave per l'enigma. Assolutamente no. Allora, attenzione. Io adesso girerò alcune carte. Tipo, 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 tipo questa. Poi giro, giro questa. Giro, 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 giro questa. Poi giro quest'altra. Poi vediamo un po'. Questa. E basta. Perché sarete voi a dirmi quale dovrebbe essere la prossima carta che dovrei girare. Bene, scrivetemelo nei commenti. Aspetto le vostre risposte. E niente, la soluzione a questo ultimo enigma ve la darò tra qualche giorno, non domani. Quindi ci vediamo tra qualche giorno con la soluzione di questo enigma più annuncerò tutti i vincitori che ci sono stati in questa edizione seconda della Cips Challenge. In bocca al lupo a tutti. Ci vediamo prestissimo. Ciao. Grazie per aver partecipato. Un bacione.